Halloween Party Romeo Celardi L'immagine che ci viene offerta non è quella di un volatile inquiete, ma di un essere che urla, con il becco spalancato in una posa disturbante, quasi disperata. L'incertezza del filo su cui si trova ci parla di un limite fragile, un confine sottile che potrebbe cedere in ogni momento. Proprio come le paure più profonde che risiedono nell'animo umano, questo urlo silenzioso che la cornacchia emette, sembra voler spezzare il silenzio opprimente del vuoto che la circonda. Ma allo stesso tempo amplifica quel senso di inquietudine che si percepisce guardando l'opera. Perfetta per una mostra dedicata ai misteri e alle ombre di Halloween, questa cornacchia diventa il simbolo di un'angoscia primordiale, quella che si cela nell'incertezza della vita e della morte. Del conosciuto e dell'ignoto.